Ma gli ho spedissi, no. No, no, sì, ho presentato cinque liste civiche dove c'erano tantissimi giovani, quindi abbiamo avuto risultato eclatante e purtroppo io che sono tuttora membro dell'Assemblea Nazionale dell'NCD sono stato esteggiato dallo stesso partito. Non volevano farla candidare? No, dice che non ero la loro espressione. Non ero la loro espressione, quindi ha vinto. Benissimo, interessante, è un segnale debole che però andrebbe eletto in qualche modo. Voi avete dei ricordi della maturità? Sì, ti ho ricordi bellissimi. Sì, parlavamo prima con lui. Tanto quell'estate lì, scusa, mentre io studiavo, Dalla De Gregori fece la tournecola di Banana Repubblica. Quindi per preparazione della maturità, questo concerto al comunale di Torino, Dalla De Gregori che canta. Che fortuna. E quindi la maturità poi è passata in secondo piano, insomma. Sindaco, che ricordi c'ha della maturità? Mi ricordi bellissimi, sono passati più di 20 anni, quindi... Sono le scuole dalle parti sue, a terzegno. Ma le scuole dalle parti mine, diciamo, necessitano di... È un comune campano, insomma, sta in una zona molto difficile. È un comune campano, diciamo, qualche anno fa purtroppo è venuto alla ribalta per il problema dei rifiuti, che, come ben sanno, abbiamo, diciamo, la discarica, la discarica sana. È proprio la contraddizione che vivono i nostri territori. Una discarica situata all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, che per noi cittadini risulta essere un deterrente, anziché poter essere una fortuna. Tant'è vero. Ieri sono stato, e proprio per mettere in risalto la contraddizione che si vive in Italia, il Parco ogni anno risparmia 5 milioni di aereo, vanno a mangiare l'amministrazione e andiamo nella nostra pineta, troviamo sport, non possiamo metterci le mani. Non possiamo offrire... Perché? Perché ci sono i vincoli. I vincoli, però, non c'erano nel momento in cui fu messa la discarica. Cioè, è qui che è la politica latita. Perché se la politica non riesce a risolvere le istanze dei cittadini, è giusto. E' giusto che vanno a votare il 46% di italiani. La politica deve incontrarsi perché non si va a votare. Purtroppo oggi si pensa... Io ho messo in campo una squadra, proprio per andare contro tendenza. Ho dato la forza ai giovani, ho dato soprattutto forza alla gente, di partecipare attivamente e effettivamente all'amministrazione. Io ho provato in questi 40 giorni di campagna elettorale un'emozione che non provavo da tempo. Oggi i politici sono resti a fare i comizi perché oggi nessuno più li ascolta. Noi invece siamo stati a riempire le piazze. Il risultato del 70% è il frutto di questo. E certamente noi non dovremo deludere le aspettative di coloro che hanno creduto in noi. Anzi, io spero che tanti altri amministratori possano seguire il nostro esempio. Perché penso che le istanze che in altri territori... Le risposte che aspettano i nostri territori sono tante. Con i problemi risolti. Sono tante. Ma posso cominciare a parlare dagli abbattimenti. Noi abbiamo una questione di abbattimenti ormai che se ne parla da decenni. Dobbiamo dare le risposte anche su queste ai cittadini. Perché è uscito da NCD? Ho capito bene. Perché lei non li rappresentava? Allora, io faccio parte ancora dell'Assemblea Nazionale. Sono membro dell'Assemblea Nazionale. Nel momento in cui c'era la possibilità che il sottoscritto, quadriuato diciamo da una squadra di giovani e anche di amministratori esperti, poteva avere la possibilità di essere candidato al cinema. Sono stato messo da parte. Mi hanno tolto il simbolo e come dicevo prima mi hanno tolto senti, Francesco, tu non ci rappresenti. Sono andata avanti lo stesso. E chi li rappresentava loro? Per un altro candidato che volevano. Tanto è vero che la lista non è stata presentata. Mi leva una curiosità. Come è finito nell'Udc lei? NCD. NNCD. Vabbè, o più o meno. Ricostruiamo la genealogia. No, io forzitare. Puro e duro. Però lei è stato con nomi e cognomi. Sappiamo quali sono le cosiddette forze territoriali in campagna dell'NDC e Udc. Si confesi, figliuolo. E da quanto tempo? E sarò qua. E non ha poi... Chi c'è lì? Da De Girolo? C'è lì? Non c'è una carissima amica. Troppo sottiglia. È vero, Nunzia è una nota al momento. No, però risponda prima a questa domanda. Come è entrato? Data la situazione, si mette con un partito proprio... Che è un partito? Con un stato d'animo. C'è da dire che io da anni non credo nei partiti. E forse avevo creduto nell'NCD. E perché? Di tu e come la Madonna. Avevo creduto nell'NUNI perché pensavo che... Io non rinego il mio passato di democratico cristiano. Quindi non l'ho mai rinegato e rinegherò. Mi sembrava un proseguimento. Devo chiedere una cosa...